Ma che giocatore Kylian Mbappé, che giocatore Mbappé, incredibile, storico, tripletta per lui oggi al Camp Nou, ragazzi tripletta al Camp Nou, Kylian Mbappé schianta al Barcellona, 1-4 per il PSG fuori casa, mamma mia, intanto sono qua davanti alla TV, sto seguendo gli ultimi minuti, siamo al 92esimo, 4-5 minuti di recupero, mamma mia, che partita che abbiamo visto, mamma mia, mamma mia, tra l'altro con il Barcellona che passa anche in vantaggio, con il gol di Lionel Messi su rigore, all'inizio non mi sembrava rigore, mi sembrava che De Jong si fosse buttato, ma poi infatti c'era il tocco di Kurzawa, che con il ginocchio ostacola un po' i piedi De Jong, che poi si calcia la gamba, il polpaccio da solo, cade, comunque ci stava il rigore, e poi 5 minuti dopo arriva il primo gol dei tre di Kylian Mbappé, una bellissima azione con lancio verso Kurzawa, che di prima la mette al centro, giocata di Verratti pazzesca, di esterno-destro senza neanche guardare, sapeva già dove era e che c'era, soprattutto Mbappé al centro area, Mbappé controlla anche con un mezzo rimpallo, poi va sul mancino, salta l'anglais, spara un bolide sotto la traversa, ragazzi. Poi, intanto siamo al 93esimo, primo tempo che finisce così comunque con un PSG, Paris Saint Germain più propositivo, che attacca di più, si fa vedere di più in attacco, Barcellona che era partito bene ma poi si è spento un po', il PSG che ha anche avuto almeno una o due occasioni importanti nel primo tempo, e il secondo tempo praticamente è il copione del primo tempo, se non ancora peggio per il Barcellona, perché il PSG viene proprio fuori enormemente con Mbappé, ragazzi, che partiva era infermabile, bisognava falciarlo, bisognava fucilarlo per fermarlo, veramente Mbappé è incredibile, ne saltava 3-4 con una facilità che non vi dico, infatti poi arriva il gol del 2-1 al 65esimo minuto, Kylian Mbappé su una ribattuta, diciamo pallone buono per Florenzi che la mette al centro, un po' svirgolata di piché, poi arriva Mbappé sulla battuta, che comunque non è un gol da niente, perché si trovava nel posto giusto, nel momento giusto, quindi complimenti, poi al settantesimo, 3 minuti, 5 minuti dopo, arriva il 3-1 di Moise Ken, ragazzi, 3-1 di Moise Ken, che anche lui ha fatto oggi una grandissima partita, su assist di Paredes, grande punizione di Paredes che la mette al centro, pallone era anche abbastanza lontano, Ken completamente da solo, lasciato libero da Langley e De Jong, riesce a colpire di testa praticamente vicinissimo alla porta, a 1-2 metri a Ter Stegen, la schiaccia, pallone che si infila quasi all'incrocio, Ter Stegen lo tocca ma non può praticamente farci niente, intanto 95esimo, ultimo minuto di recupero, quindi già 1-3 è dura come risultato, e poi arriva anche il definitivo 1-4, sempre di Kylian Mbappé che firma la tripletta, ripartenza bellissima di Draxler, con una combinazione da Dan Mbappé che di prima a giro trafigge Ter Stegen l'incrocio alla sinistra di Ter Stegen, che gol anche questo, quindi Barcellona umiliato dal PSG, Messi umiliato da Mbappé che ha fatto una partita incredibile, ragazzi, questo ragazzo diventerà fortissimo, e mamma mia, mamma mia che partita, io vi saluto, buonanotte e ci vediamo con un prossimo video, bella ragazzi.